buongiorno a tutte ragazze o buon pomeriggio o buonasera in base a quando vedrete questo video allora oggi è una bruttissima giornata molto uggiosa e praticamente ha finito da poco di diluviare cioè in strada era tutto completamente allagato faceva impressione quasi uscire comunque non sto qui non sto facendo questo video per raccontarvi il tempo in puglia ma voglio fare questo video anzi questo primo video sui miei prodotti preferiti nel mese di aprile intanto me l'avete richiesto di fare queste tipologie di video e quindi mi sono decisa e l'ho fatto anch'io allora in questo video vi mostrerò i miei prodotti preferiti per il mese di aprile cioè i prodotti che ho utilizzato più del solito in questo mese allora come prima cosa vi farò vedere questo correttore della kiko ed è il full coverage concealer ed è il numero 01 ecco qui si presenta così con all'interno uno specchiettino e il correttore adesso vi cieco se non copro ecco qui il correttore molto chiaro come potete vedere perché io sono molto 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 chiara quindi mi serve appunto un correttore chiaro e mi piace perché riesce a dare una maggiore coprenza soprattutto mi schiarisce tantissimo la zona con torno occhi e poi devo dire che è carino anche come base per l'ombretto certo non si può minimamente paragonare a una un primer specifico per per la base ombretto però anch'esso fa il suo lavoro se vogliamo stare che ne so mezza giornata con un trucco da giorno per poi ritoccarselo un po perché comunque non va nelle pieghette però tende a farlo sbiadire scolorire tantissimo l'ombretto e quindi diciamo che per una mezza giornata è accettabile come come primer diciamo tra virgolette quindi questo correttore mi piace tanto e non non costa nemmeno tanto l'ho pagato intorno alle 7 euro credo sì più o meno sui 7 euro comunque non più di 7 poi finalmente ho trovato il pennellino dell'essence per le polveri quindi che può essere utilizzato per l'applicazione mamma mia e si vede che è scirocco che non si riuscendo a parlare comunque dicevo il pennellino da borsetta dell'essence per le polveri quindi per l'applicazione della cipria per il blush per la terra per il contouring insomma e mi piace perché è davvero piccolissimo questo pennello mi piace tantissimo perché è morbidissimo ha delle setole davvero davvero buone cioè poi per il costo che se non erro è sui 3-4 euro avere queste setole per un pennello di 4 euro non è da poco ecco quindi mi piace perché va perfettamente sullo zigomo poi è da borsetta si può usare anche per le un po' per tutto diciamo quindi lo trovo molto utile come come pennello poi questa palettina della elf che mi avete visto usare in uno dei miei ultimi tutorial se non sbaglio quello red eyes quello con il trucco rosso sugli occhi per chi non l'aveste ancora visto vi metto il link qui poi un altro prodottino che mi è piaciuto e che vi ho fatto vedere in qualche in qualche mio video è questo blush della your time che ve ne ho parlato anche su facebook e vi ho detto che questa marca mi piace tantissimo perché è una marca love cost però qualitativamente è davvero molto buona perché le cose durano sulla pelle quindi mi piace veramente molto 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 certo l'inci non è il massimo però ad esempio questo che c'è ancora il prezzo l'ho pagato 3 euro e mi piace tantissimo peccato che mi è caduto a terra e si è sfraccellato come potete vedere però un giorno di questi appena avrò un po' di tempo libero vedo se riesco a ricompattarlo altrimenti lo farò diventare un blush in polvere non so cosa fare altro se avete dei suggerimenti per questo povero blush scrivetemelo qui sotto con un commentino veramente mi farete un grande grande favore comunque questo blush dicevo mi piace perché lo si mette sulle guance e ti dura dalla mattina alla sera ragazzi veramente senza fissarlo con un fissante senza fissarlo con una cipria cioè è assurdo veramente buono infatti se infatti appena avrò l'occasione di ritornare nel negozio dove vendono questa marca io riacquisterò un altro blush sicuramente perché se non erro c'era un altro colore di blush che mi piaceva molto però non l'ho preso perché appunto ho detto ne prendo uno perché se mi trovo male poi è peccato alla fine buttare quei soldi quindi ne provo uno e poi vedo è veramente mi piace quindi vado e vi faccio un po' di scorpacciata poi vi faccio un piccolo swatchino di questo blush perché è veramente fantastico ha delle micro pagliuzze sul dorato che sembra tipo il blush della elf che poi sarebbe come l'orgas l'organize non mi ricordo bene il nome adesso della Nars ecco qui cioè veramente stupendo guardate com'è pigmentato ragazze io ho fatto solo una passata è assurdo è una bomba come blush veramente stupendo ed è il numero 6 poi sempre parlando di blush un fard che davvero mi è piaciuto tantissimo sia come durata sia come prezzo sia come texture veramente favoloso anche questo è questo qui della Paris Memories il numero shade 210 sono 8 grammi di prodotto è veramente buono cioè tu lo metti sopra che te lo dimentichi ti dura ti dura tutto il giorno anche questo della mattina alla sera questo colore è fantastico vi faccio un swatch questa specie di rosa antico ecco qui veramente stupendo e questa è una passata anche ragazze cioè come potete vedere è molto pigmentato come colore dura ha una texture stupenda sul viso veramente bello e questo qui mi pare che l'ho pagato un euro un euro e cinquanta non mi ricordo comunque è un prodotto low cost con la quale io con questa marca mi trovo abbastanza bene però con questo mi piace poco da matti questo blush poi sempre riguardante il contouring mi è piaciuto questo face contour kit della sleek makeup che sarebbe questa è la tonalità medium 885 medium si presenta con uno specchiettino poi qui abbiamo una terra e qui un illuminante questa è la terra e questo è l'illuminante ecco qui questo fondotinta lo pagai un euro e cinquanta se non erro e ragazze dura quasi tutto il giorno per un fondotinta di un euro di pochi pochi soldi durare tantissimo veramente veramente buono non so l'inci com'è perchè si è cancellato a differenza di tempo ha una durata di 24 mesi come potete vedere ed è della dolly veramente mi è piaciuto come fondotinta anche da utilizzare così tutti i giorni mi piace come fondotinta e l'ho quasi finita come potete ben vedere però veramente avevo varie tonalità mi piace mi piace come texture molto morbida idrata tantissimo la pelle e poi dà un effetto molto bello sul viso molto luminoso però allo stesso tempo matte ma luminoso quindi io mi sento di consigliarvi questi prodotti perchè a mio parere li ho trovati davvero molto buoni e nulla ragazze questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto e nulla ci vediamo presto un bacio ciao